Candidato sindaco, i punti principali della sua campagna elettorale? Sicuramente abbiamo quattro punti fondamentali, sicurezza, famiglia, sociale, sviluppo del territorio. Sono quattro punti in cui la Lega Nord punta tramite il suo programma ad intervenire in modo deciso ed incisivo nel Comune di Bevilacqua. Soprattutto nel tema della sicurezza, è stata un po' tralasciata, abbiamo un capitolo di bilancio molto scarno, quindi quello che proponiamo sarà sicuramente una tutela verso i cittadini di Bevilacqua contro quello che è il sistema, l'invasione e tutto quel fenomeno di criminalità che si sta verificando in questi giorni, in questi momenti, in questi mesi. Io sono il candidato sindaco e come si dice in Lega abbiamo un capitano e a Bevilacqua in questo caso, io sono il capitano di una nave, sono il capitano di una squadra, chiamerei la mia squadra qui che ha raccolto qui un attimo. Dicono che è preoccupante qui a Bevilacqua perché infatti c'è un furto al giorno più o meno. Sì sicuramente, il furto al giorno non è concepibile, soprattutto in un comune piccolo, 1800 abitanti, insomma, quindi se facciamo un rapporto di un furto al giorno è molto molto elevato, sicuramente uno dei più elevati della provincia. Per questo dobbiamo andare a lavorare, soprattutto in collaborazione con le forze dell'ordine, con i carabinieri, magari istituendo anche uffici di sicurezza qui in comune dove i cittadini possono rivolgersi e possiamo collaborare direttamente con la cittadinanza. Segretario, siamo Bevilacqua. Cosa dici del nostro candidato sindaco? Beh, è una squadra nuova, tutta della Lega, un candidato sindaco giovane, motivato, un professionista, un leghista da tanto tempo, una persona preparata e io penso che Nicola Scapini con la sua squadra saprà interpretare bene un po' la sensazione e anche il volere dei cittadini di Bevilacqua e sarà un buon candidato sindaco e secondo me si giocherà tutte le sue carte perché ha tutte le chance per fare bene e per guidare il paese di Bevilacqua per i prossimi cinque anni. Enrico Corsi nella bassa veronese, qui a Bevilacqua. Come mai? Beh, abbiamo un nostro candidato, la Lega sta facendo bene su tutto il territorio e speriamo che anche qui a Bevilacqua si possa ottenere un buon risultato per dimostrare che chi da sempre porta avanti delle idee che sono sempre quelle di un federalismo, soldi a casa nostra, sicurezza sul territorio e buona amministrazione, lo si possa dimostrare anche qui a Bevilacqua. Luca Coletto, un amico che è venuto nuovamente nella bassa veronese per sostenere chi? Per sostenere Nicola Scapini, candidato sindaco della Lega Nord a Bevilacqua. Credo che la sezione, il movimento, la circoscrizione abbia fatto una scelta corretta, abbia fatto una scelta mirata verso l'innovazione, un giovane che dà nuova vita, nuova linfa a un comune come Bevilacqua. Io credo che i cittadini accoglieranno favorevolmente questa candidatura, una candidatura con una squadra operativa, efficace ed efficiente. Quindi nuova strada per Bevilacqua, un futuro secondo me assolutamente positivo.